Torniamo ad occuparci del quartiere Poderino e della nuova configurazione che questo quartiere nel cuore della città sta assumendo per via delle interquartieri che lo attraversa e che presto sarà aperta. Le barriere antirumore sono la punta dell'iceberg e di una situazione che il Comitato per la Vibità Sostenibile denuncia da tempo come critica e poco funzionale. Un percorso fatto di lettere, incontri, tavoli aperti già con l'amministrazione Aguzzi. Siamo andati a raccogliere le loro considerazioni sugli ultimi sviluppi. Formalmente nasce nel 2013 dopo che la Giunta Aguzzi ha presentato appunto l'esecutività del progetto e da quel momento abbiamo messo in atto diverse iniziative sia per sensibilizzare l'opinione pubblica sia del quartiere ma anche di tutta la città perché il Comitato nasce sì da un problema particolare ma il suo interesse si è ampliato a tutta la problematica della viabilità di tutta la città anche perché è impensabile pensare a affrontare in maniera settoriale ogni ambito della città quindi siamo tutti collegati. Subito con la Giunta Vincente, con la Giunta Seri abbiamo cercato di creare appunto una città dinanziativa come quando c'era stato promesso e quindi apertura di tavoli prima con l'assessore Marchegiani poi con l'assessore Fanesi. Però ecco diciamo che la sintesi di tre anni di lavoro l'abbiamo un po' l'abbiamo fatto inquadrare in quei dieci punti che erano stati di fatto condivisi da tutte le amministrazioni però abbiamo sotto gli occhi di tutti il risultato. Ora il quartiere ed i suoi abitanti vive in una condizione di impasse di attesa dell'apertura dell'inte quartieri per valutare il suo impatto. Il quartiere a questo punto è un quartiere che aspetta l'impatto con questa viabilità è un impatto che si può aprire ma quando è aperto via l'Italia c'è tema di fondo il sindaco ha detto apriamo via l'Italia sappiamo che ci sono dei problemi che il quartiere ma quando abbiamo aperto via l'Italia siamo sicuri che poi dopo via l'Italia possiamo di nuovo richiuderlo cioè sono questioni che poi messe sul tavolo trovano forse più l'appoggio di chi è favorevole comunque a un'ulteriore espansione dell'uso della macchina piuttosto a chi invece è favorevole al contrario. In sintesi si poteva fare di meglio c'era qualcosa di meglio da posizionare che non che avesse un impatto anche visivo decisamente migliore rispetto a questo che dà proprio l'idea di un muro di berlino. Il tema dell'impatto quando si decide per il pannello è una soluzione la più conveniente burocraticamente perché sono dei pannelli li metti lì punto e basta. La legge non è che dice che bisogna fare pannelli la legge dice che bisogna prendere dei provvedimenti c'è la riduzione della velocità che è un'altra cosa che è stata citata che è altrettanto efficace ci sono per esempio nelle vie che conseguentemente poi devono prendere anche il traffico e non se ne parla per esempio via della trave che è una via e via della fornace che oggi sono via d'alta densità di traffico importante su queste vie che conducono in fondo al quartiere ma che oggi raccolgono gran parte del traffico di uscita dall'interquartiere che non ha uno sviluppo verso Pesero queste sono vie su cui va fatto un piano urbano del traffico dimezzando diciamo il volume di traffico